...numeroso fino a questo momento partito iniziato da poco, gol di Eimi subito che sblocca il risultato dopo un minuto e sei secondi ancora lui a sbloccare la gara González velocissimo all'indietro attenzione, tiro, palo e la palla si infila Davide Bergami in pareggia 4 minuti e 10, Novara perviene al pareggio tira González, respinge, vecchia ancora González l'arpiona e va in rete González è stato molto bravo a rimanere fermo e a riprendere questa palla tutto pronto va Busani, è gol di Busani che ha preso confidenza con il dischetto del rigore ed esulta con il pubblico e con i compagni Eimi all'indietro per Cortés da lontanissimo Cortés gol di Cortés dalla distanza anche quando non si cerca la deviazione può fare male se si prende la porta e l'ha fatto la palla è in uscita quindi va improprio si piazza tira lui, gol di Busani gol ha cercato il centro della pista e ha colpito in una situazione in 4 contro 3 ci si aspettano tanti passaggi non riesce ad arrivarci per essere pecoroso poi Busani ora è il centro della pista in rete di Busani gol di Busani che arriva al limite dell'area ed esulta con pubblico ai tifosi qua ha sorpreso la difesa novarese González gol gol di González bello González tiro fuori attenzione ancora palla lui González gol bisogna tornare alla velocità della luce poi è anche fortunato che gli tornino le palle subito è a modo di pensarci anche quando davanti a porta qualche occasione per incrementarlo ulteriormente adesso deve soffrire tira dalla distanza gol di Uva Barbieri ha trovato Uva che ha spizzato la palla alle spalle di Rummesgillie Scandiano e realizzare il suo poker González gol subito il rigore perfetto grazie a tutti Grazie a tutti.